La lotta allo sfruttamento e al favoreggiamento della prostituzione è una battaglia che da anni impegna risorse ed energie del comune di Montesilvano, dove le cronache registrano con frequenza episodi ordinari di denuncia del fenomeno del meretricio e di molti ai clienti delle donne sfruttate. La novità di questi giorni è che dal consigliere Marco Forconi di Fratelli d'Italia arriva la proposta di sequestrare gli appartamenti affettati per lo sfruttamento della prostituzione cercando di dare concretamente seguito a un provvedimento che era già stato annunciato in campagna elettorale, mentre l'assessore all'urbanistica Antonio Aliano della Lega si dice favorevole alla modifica della legge Merlin che consentirebbe la riapertura delle case chiuse per regolamentare una volta per tutte il fenomeno della prostituzione. A livello macroscopico e nazionale noi auspichiamo io in maniera particolare che vi sia una modifica della legge Merlin che consenta ai comuni, allo stato di legiferare in tema di meretricio nelle abitazioni, consentirebbe l'emersione di evasione, quindi tributi a livello igienico sanitario sicuramente favorirebbe un'attività che comunque c'è. Quindi sintetizzando tutto riaprire le case chiuse? Ma senza dubbio, io francamente non ho mai nascosto di essere dell'idea che una modifica della legge Merlin potrebbe consentire allo stato e ai comuni di poter regolamentare la materia e di evitare che vi sia scempio e meretricio per la strada. Si inizia proprio dal sequestro e poi eventualmente si arriva la confisca. Il proprietario dell'appartamento o la proprietaria in teoria non possono non sapere quello che accade all'interno del suo appartamento, però qualora loro non fossero al corrente di quello che accade possono produrre una difesa e quindi si può fare opposizione al sequestro e quindi non si arriva alla confisca. Però prima ovviamente di arrivare al sequestro, insomma ci sono anche delle comunicazioni da parte delle forze dell'ordine. Ci sono delle problematiche molto forti su clan organizzati extracomunitari qui a Montesilvano. Il fenomeno si sta allargando e ci sono clan molto molto forti anche a livello internazionale che stanno operando su Montesilvano e non dimentichiamo che oggi purtroppo è un dato di fatto, molti transessuali sono anche vettori di droga e quindi dove c'è meretricio spesso e volentieri viene anche riscontrato, è riscontrata anche presenza di droga. Voi avete già una mappatura diciamo degli appartamenti incriminati? Praticamente sparsa in tutta la città, questa cosa fa molta paura e non c'è un quartiere, non c'è una zona che è esente da ciò, questo è molto preoccupante e quindi sequestrando questi appartamenti si riduce di molto anche il fenomeno stradale.